quindi in questa ora che ci avanza finiamo questo esempio e poi parliamo un attimino del contesto allora abbiamo fatto il form quello che ci manca per far funzionare completamente il form è che quando io premo salva questo bottone l'elemento in tabella si aggiunga quindi quando aggiungo un corso ovviamente io vado a poi selezionare il come si dice vado ad aggiungere il corso dell'esame che ho superato qui quindi nell'endor submit perché abbiamo detto che è lì premiamo save quindi chiamiamo sull'onclick del save l'endor submit qui andiamo a fare le operazioni che ci servono per aggiungere l'esame in questa tabella allora quali sono le informazioni che ci servono beh sicuramente abbiamo bisogno di chiamare il metodo add exam che abbiamo creato prima add exam se ricordate andiamo a vederlo qui sopra settava tutti gli esami aggiungendo un singolo esame aggiunto e riceveva un parametro che è exam che è l'esame nel formato che è richiesto da questa collezione di esami quindi il codice del corso il voto e la data di superamento dove eravamo? quindi qui dobbiamo ovviamente prima di chiamare add exam dobbiamo creare questo oggetto che si chiama esame o se vogliamo così new exam l'esame da aggiungere ora l'esame da aggiungere com'è composto? com'è fatto? è un oggetto che ha tre parametri che sono esattamente quelli che avevamo quando abbiamo definito la collezione di esami quindi codice e adesso lo completo score se non ricordo male e date fatemi vedere che di averli chiamati nello stesso modo codice score e date perfetto ora cosa mettiamo qui come codice? quindi questa è in un certo senso la chiave dobbiamo mettere il valore associato a questa proprietà cosa scriviamo qui a fianco di codice a fianco di score a fianco di date quindi io ho scelto un esame che non c'è tipo software engineering ho messo un voto e ho messo una data di superamento premo save qui arrivo dove c'è codice dove c'è score dove c'è date devo mettere dove c'è codice il codice che mi arriva da questo campo dove c'è score devo mettere 30 e dove c'è data devo mettere questa cosa scrivo qui? ipotesi? no no non event target value no event target value code gli stati esatto gli stati perché? perché io ho tutti questi valori dato che stiamo usando un componente controllato ce li ho già negli stati perché tutte le volte che c'è un non change aggiorno lo stato quindi qui ho già lo stato all'ultima prima di premere save ho già nello stato del corso il codice del corso nello stato score lo score e nello stato date la data quando primo save quello che faccio è chiamare questa funzione ma non passo effettivamente nuove informazioni perché in event target ho l'evento ho il bottone quindi posso prendere le cose dal bottone ma non posso prendere le cose da form quindi qui ho semplicemente le cose in corso score e date che sono i tre oggetti di stato che abbiamo aggiornato tutte le volte che facevamo un change ok? questo è chiaro per tutti adesso ok benissimo che appunto è il vantaggio in un certo senso di avere il componente controllato che abbiamo tutto nello stato quindi ci basta usarlo e il save ci dice solo che adesso sono arrivato a un punto per cui gli stati sono tutti aggiornati quindi usiamoli a questo punto in prima battuta quello che possiamo fare adesso è passare questo nuovo esame ad exam che andrà aggiungerlo alla tabella ovviamente qui in mezzo la cosa che dovremmo fare mettiamola come to do perché non la facciamo adesso non ci riguarda cioè non riguarda estremamente il funzionamento della forma però il codice che sarebbe bene fare è aggiungere validazione quella validazione client side che dicevamo prima per cui andare a controllare per esempio che io io posso fare così potrei scrivere 15 qui allora questo campo non me lo permette ma io posso scrivere 15 e quando faccio save qui mi arriva 15 quindi per esempio potrei controllare qui in codice che per esempio corso è un codice di corso valido o incluso nella tabella che score è effettivamente compreso è un numero di compreso tra 18 e 31 date che appunto è tra non lo so non può essere il primo gennaio del 1980 probabilmente o del 1200 o del 900 ecco ma ovviamente è una data ragionevole quindi fare tutti quei controlli di validazione prima di aggiungere effettivamente l'esame quindi immaginiamo in questo momento di averli fatti questo è il codice se corso è diverso è vuoto se non è vuoto ed è compreso nella lista dei corsi e se score è minore di 31 è minore uguale di 31 è maggiore di 30 allora tutte queste cose fai aggiungi l'esame altrimenti dai un errore ok quindi qui bisognerebbe non fare l'inserimento bisognerebbe aggiungere la validazione però proviamolo così aggiorniamo anche qua proviamo ad aggiungere adesso in questo caso facciamo così cancelliamo web application dall'altra volta e riaggiungiamo web application con un voto di 25 che forse era diverso dall'altra volta e la data di oggi va bene la data di oggi ok premiamo save e vedete che tutto ha funzionato web application è stato aggiunto con data 25 con data di oggi e posso poi come prima cancellarlo eccetera ovviamente adesso se io lo rifaccio riaggiungo la riga di nuovo e questo è il controllo che diceva prima il vostro collega di non inserire i corsi già superati quindi bisognerebbe aggiornare questa lista in modo che web application e tutti questi non ci siano più in questo caso ci sono solo i corsi c'è computer architecture ok che manca c'è solo questo che manca ma una volta che abbiamo aggiunto anche questo poi non avremo più corsi da aggiungere e questa è la gestione del form che potete non dico copiare e incollare tutte le volte che vi serve ma quasi al netto di quello che mettete nei campi quindi c'è value on change e poi il comportamento del bottone di submit che in realtà per essere più precisi dovremmo anche scrivere che questo è un bottone di submit poi nel nostro nell'attuale non ci cambia niente però se gli altri hanno tutti gli elementi messi a posto questo è il bottone di submit se vogliamo possiamo fare possiamo anche attivare il bottone cancella e il bottone cancella potrebbe essere attivato e potrebbe nascondere questo adesso questo c'entra meno col form però per esempio potremmo fare così potremmo avere uno stato a livello di componente a livello di container e così riprendiamo anche l'ultimo slide che abbiamo visto qui quindi nel livello di exam table aggiungiamo uno stato che si chiama show form e hide form che permette di non show form hide form ma che permette di nascondere o mostrare il form così quando facciamo cancel il form si nasconde e quindi potremmo avere un show form e poi un set show form come stato a livello di contenitore use state e mettiamo false quindi partiamo che di default a volte il form non è mostrato e a quel punto avrai bisogno di un bottone che lo mostri e a questo punto qui prima dell'exam form dobbiamo dire show form se il form è da mostrare allora visualizziamo exam form e altrimenti visualizziamo un bottone quindi se il form è nascosto visualizziamo un bottone che a long click cambi quello stato che è set show form a true chiusa chiusa graffa chiusa qui e questo chiamiamolo add il bottone e qui manca la parentesi graffa ok quindi se show form è vero visualizziamo il il form e se show form è falso invece quindi è nascosto lo visualizziamo dopodiché dobbiamo portare questo set show form fino a cancel e quindi possiamo anche dire qui aggiungere una proprietà dopo add exam che si chiama cancel che non farà altro che dire set show form false così nasconde il il l'ho messo nel posto sbagliato scusate ovviamente deve essere fuori da questo qui ok e quindi vedete abbiamo fatto parere un bottone add che quando lo premiamo compare il form e poi quando premiamo cancel andiamo a chiamare questa proprietà qui sotto nel bottone cancel e andiamo a dire che al long click facciamo props punto cancel e se vogliamo anche quando facciamo add quando premiamo save quando l'aggiunta viene fatta a buon fine quindi qui sopra add exam possiamo dire non solo add exam ma anche set show form false così quando aggiungiamo l'esame possiamo anche nascondere il form vediamo se tutto funziona fatemi mettere una variante diversa in questo bottone add così lo facciamo diventare di un altro colore per esempio variant success dovrebbe essere verde se non sbaglio esatto così quando io premo add mi compari form sparisce il bottone no io posso aggiungere in questo caso computer se premo cancel mi scompare se ripremo add e aggiungo computer architecture facciamo così e premo save computer architecture viene aggiunto e il form di nuovo scompare quindi questo è solo per fare questo meccanismo di questa animazione diciamo così quindi lo ripeto se c'è show form è vero quindi se lo stato è vero visualizzo il form se volete posso provare ad andare a capo solo per farci capire meglio altrimenti visualizzo il bottone add probabilmente sì perché lo stato non è stato cancellato no in realtà su cancel no bisogna provare con l'aggiunta allora computer architecture no in realtà no quando fai il submit se facciamo solo con l'add neanche ok prima mi sembrava fosse sparito computer architecture ma perché perché ricordate che questo meccanismo che abbiamo usato qua se andate a vedere le slide di qualche tempo fa è anche un modo perché in questo caso quando è nascosto questo componente non viene creato quindi viene distrutto e quindi viene rinizializzato quando poi viene ricreato dato che noi rimpiazziamo il bottone di add col form e poi quando form lo finiamo di usare lo cancelliamo in un certo senso react lo cancella e lo va a rimpiazzare col bottone per cui se noi siamo in questo caso e andiamo a fare ispezione elemento vedete che qui c'è la tabella e c'è il bottone non c'è il form quindi quando noi lo facciamo non è un nascondere vero e proprio del form è più quasi un distruggere ricreare distruggere il form è rimpiazzarlo col bottone e viceversa se invece non nascondessimo solo ovviamente lo stato e tutte le sue proprietà rimarrebbero attive e vive nella se facessimo hidden praticamente rimarrebbero attive invece in questo caso andiamo a rimpiazzarlo e questo è molto è molto idiomatico è una cosa che si fa molto spesso in react quindi non non dimenticatela e fatela pure quindi quando si vuole togliere o aggiungere qualcosa nasconderlo in questo caso ma l'effetto appunto è ricrearlo da zero quindi questo è molto comune avere una proprietà se la proprietà è vera mostro qualcosa altrimenti mostro qualcos'altro o mostro niente può essere utile per questi casi può essere utile se uno è un utente amministratore e un utente non amministratore per cui l'utente amministratore avrà magari certi comandi e l'utente non amministratore non ce l'avrà in quel caso l'utente amministratore quel comando non viene neanche inserito nell'html perché ovviamente non è amministratore quindi non l'avrà proprio non sarà solo nascosto non ci sarà ok questo codice comunque che abbiamo sviluppato insieme ve lo metto su e poi su su GitHub in un repository che si chiamerà WIC07 come come il solito che adesso non c'è ancora ma lo facciamo con questo esempio e poi ci sarà anche la soluzione in un altro repository che si chiama React Score che sarà molto simile a questa comunque che è quella comune ai tre corsi ok altre domande su questo se no passiamo a parlare brevemente mezz'oretta su del contesto nel Big Lab nel pezzo di Big Lab di lunedì avrete praticamente da lavorare con i form e quindi questo vi è sicuramente molto utile come punto di partenza in cui credo che andrete ad aggiungere se non ricordo male ovviamente le cose nella vostra to-do list poi appena la pagina si aggiorna le perdete perché non abbiamo ancora un server non abbiamo ancora la persistenza che fra due settimane credo inizieremo ad aggiungerla sì spero spero di sì che di errore se non si aggiunge il nome del corso perché di default è virgolette dov'è? quindi questo sarebbe da intercettare di default è virgolette quindi lui in realtà lo aggiunge ma lo aggiunge come virgolette gli altri fattori e quindi quando poi va a quando poi va a recuperare in questa riga qui in qui parliamo di qualche forse più grosso in exam row direi qui quando va a fare questo map per creare la tabella va a prendere il codice del corso dall'elenco dei corsi allora nell'elenco dei corsi non c'è un codice ricorso virgolette un codice ricorso vuoto e quindi d'errore questa è una delle validazioni di cui dicevo prima che bisogna fare qui in modo da evitare di aggiungere cose che non siano poi corrette quindi qui dire if newexam.course è diverso da virgolette eccetera eccetera allora props.addexam ok poi in teoria se aggiorno non cambia quindi non è un problema dell'aggiunta è un problema di come viene creata la tabella che va a unire i dati da esami dove non c'è il nome e i corsi dove c'è il nome e quindi ovviamente questa unione fallisce se il codice non è compreso in corsi ok allora fatemi aprire poi non so se lo useremo ma fatemi aprire il progetto che hai già fatto su il contesto che vi dicevo avete già il link sul sito del corso che è sempre questo react score è sempre la stessa tabella ma senza il form in questo caso fate aprire questi due file che sono gli unici che ci servono no anche app ok e soprattutto fatemi fare npm install prima poi questo esempio questo codice c'è esattamente anche nel nelle slide quindi solo un'unione tra il progetto e le parti che ci sono nelle slide ma se servisse così almeno lo possiamo anche vedere nel codice ok dicevamo il contesto il contesto può essere utile da variabile di contesto può essere utile in alcuni casi sicuramente lo stato è molto più utile rispetto a variabile di contesto molto più usata più che utile per carità rispetto al contesto anche il contesto ha ovviamente il suo hook che si chiama use context esattamente come per lo stato si chiamava use state che cosa serve il contesto l'abbiamo già accennato la settimana scorsa il contesto ci fornisce un insieme in un certo senso globale di proprietà che sono disponibili automaticamente a tutti quindi se noi abbiamo una proprietà che dovessimo che dobbiamo far raggiungere i figli e darla a tanti figli di un padre per esempio un esempio che abbiamo fatto l'altra volta è la lingua il sito è in italiano o inglese allora è una proprietà che devo propagare a tutti quelli che devono visualizzare qualcosa perché ovviamente se in italiano i bottoni saranno tutti scritti in italiano le etichette delle tabelle pure eccetera e magari anche la data sarà nel formato tipico dell'Italia mentre se è in inglese o in cinese o in quant'altro non solo il testo dovrà cambiare ma anche il formato magari di certi elementi dovrà cambiare come per esempio per appunto certe lingue in cui non si parte più da sinistra ma si legge da destra a sinistra quindi anche la pagina dovrà girare dovrà invertirsi quindi tutte queste informazioni potremmo mettere in una prop che sta in app e poi passare questa prop a tutti i singoli componenti affinché venga poi letta oppure che quello che ci permette di fare il contesto è usarla nel contesto la mettiamo nel contesto e poi sono le prop sono gli elementi sono i componenti che quando non hanno bisogno vanno a prenderla dal contesto quindi un esempio può essere la lingua ma non solo è quello che a volte si chiama il teleporting una sorta di teletrasporto delle prop non è proprio fedele come parola teletrasporto ma questo passaggio delle prop anche da senza dover passare da padre a figlio e a figlio a figlio ma in maniera trasversale più libera e soprattutto senza dichiararla ecco altri esempi per cui è utile il contesto una cosa che è molto in questo momento in voga il tema visuale del sito il sito dark il sito white quindi chiaro oscuro e allora questo è un'informazione che serve a tutti i componenti per rirenderizzarsi quindi ha senso che sia nel contesto più che venga appunto propagata ogni singolo figlio che devono cambiare il colore e il contrasto delle immagini o lo stato se sei loggato o non loggato quella è un'informazione probabilmente necessaria in certe applicazioni soprattutto a grandi parti delle pagine quindi anche quello perché doverla passare in props a centinaia o decine comunque di componenti quando basta mettere in un post e tutti possono leggere oppure se abbiamo bisogno di una sorta di cache molto leggera per condividere i dati tra vari componenti ok un'informazione che serve a più componenti la metto in questo post in modo che tutti i componenti possano leggerla ci sono tre elementi per gestire il contesto il contesto va definito poi il contesto va fornito e il contesto va consumato dato che non è una props che viene passata da padre a figlio dato che non è come lo stato che può essere creato e consumato impostato scusate col set e qui è un pochino più strutturata la faccenda perché uno definisce il contesto dice uno mi serve un oggetto di tipo contesto e due memorizzo il contesto da qualche parte in una variabile come in questo caso quindi creo il contesto con react.createcontext e a quel punto lo memorizzo in una variabile a questo punto react sa che questo example.context è un contesto una proprietà disponibile a tutti ma così è definita react sa che esiste e che potenzialmente è appunto fornibile a tutti dopodiché il contesto va fornito cioè bisogna creare un componente che si chiama example.context punto provider con value value che è un comportamento analogo a quello che abbiamo visto nel form che inietta il contesto a tutti i componenti che sono all'interno di questo componente qui questo perché perché è vero che il contesto è generale ed globale ma ci possono essere occasioni in cui magari vorrei gestire due contesti uno che magari è disponibile a tutta app e uno che magari è disponibile a una porzione della pagina o una certa versione della pagina e quindi io potrei dire ok mi interessa un contesto a livello app a livello generale di applicazione oppure posso dire no mi interessa un contesto che sì è comunque fornita a decine di componenti però ha solo un certo pezzo della pagina ha solo un certo pezzo di componenti non proprio a tutti 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 quindi ci permette di avere questa flessibilità di assi definire il contesto a livello appunto generale se vogliamo basta usare questo esempio context punto provider dove esempio context è il nome che diamo noi al contesto e dentro metterci tutti i componenti che ci interessano quindi se vogliamo definire a livello generale ci basterà scrivere sotto app example context e poi dentro example context tutto il resto dell'applicazione oppure possiamo definirla per un sottinsieme più piccolo di componenti e questo rende disponibile a questo punto davvero fornisce il contesto che sto definito prima a tutti i componenti che sono inclusi all'interno di questo tutti gli elementi che sono inclusi all'interno di questo componente questo fornisce il contesto come poi uno dei componenti figli di questo provider possono usufruire possono consumare il contesto dove ci sono due modi uno usa look e uno non lo usa c'è l'equivalente il metodo classico diciamo che è l'equivalente del provider quindi abbiamo un context punto provider abbiamo un context punto consumer che è un componente che come dice qui renderizza una funzione che riceve il contesto che viene passato da questo value quindi qui dentro consumer leggiamo questo value oppure abbiamo look che fa la stessa cosa che legge comunque questo value ma non è da definire come un componente dedicato come consumer quindi tre step la definizione il dire dove questo contesto vuole essere utilizzato all'interno dell'applicazione quali componenti rientrano ne hanno bisogno e poi il singolo componente che vuole utilizzarlo per fare qualunque cosa deve accedere a questo contesto può accedere o attraverso il componente che si chiama nome del contesto che abbiamo definito punto consumer oppure look use context allora come si definisce il contesto l'abbiamo visto variabile che definisce il nome del contesto uguale react punto create context con un valore di default che può essere opzionale questo crea un nuovo oggetto di tipo contesto potete avere molteplici oggetti di tipo contesto esattamente come avete molteplici stati e questo oggetto di tipo contesto che qua viene chiamato ex context contiene quei due elementi quei due componenti che abbiamo detto prima il provider e il consumer e in maniera analoga allo stato in realtà questo contesto rappresenta il valore di un oggetto quindi nel contesto ci mettiamo un oggetto e in maniera analoga allo stato questo oggetto può essere un oggetto complesso può essere un array con degli oggetti quindi può avere poi e può essere complicato a piacere ma è comunque un oggetto quindi un contesto è un oggetto globale più o meno globale diciamo così che passiamo e che rendiamo disponibile a chi ci interessa poi questo oggetto di nuovo può essere uno o può essere una stringa o può essere qualcosa di più complesso e i componenti possono sottoscrivere possono consumare questo contesto dal provider più vicino e se non ci fosse un provider quindi se cerchiamo di consumare un contesto senza avere il provider utilizziamo il default value che viene passato qui nel create context se invece c'è un provider a quel punto il default value viene ignorato e viene utilizzato il valore che viene passato nel provider quindi esempio che è l'esempio che abbiamo che ho aperto nel codice poco fa e che avete già appunto su github potete scaricare e provare anche voi aggiungiamo due bottoni view ed edit al nostro intero progetto che in questo caso è solo la tabella ma se avesse il form ovviamente comprenderebbe anche il form che view poi diventa hide il bottone view che poi diventa hide nasconde tutti i dati tutte le azioni nasconde tutte le date e e lo score quindi vedete i corsi che avete superato ma non vedete né il voto né la data una sorta di privacy mode e l'edit o il read attiva la modalità read only quindi ho solo la tabella che posso leggere quindi posso leggere lo score posso leggere la data ma non posso fare nessuna azione non posso modificare non posso cancellare e se ci fosse il form non potrei neanche aggiungere oppure la modalità appunto edit quindi questa è la modalità read e la modalità edit che invece ci permette di cancellare modificare fare tutto quindi uno stato generale per l'intera applicazione in questo caso una sulla privacy diciamo così e una invece su la modifica la possibilità di modificare o meno su privilegi di modifica o di lettura soli della nostra tabella allora se noi vogliamo fare questa cosa cosa dobbiamo fare? possiamo innanzitutto creare due bottoni qui button che è uno che è o view o hide l'altro che è read o edit che si trasforma così e questi bottoni vanno a cambiare uno stato uno stato che chiamiamo privacy e uno stato che chiamiamo editable quindi lo stato il bottone view aggiorna quando viene cliccato cambia lo stato privacy da vero a falso attraverso set privacy e il bottone edit cambia lo stato editable attraverso set editable da vero a falso allo stesso modo quindi questo è in app quindi questo è uno stato che abbiamo aggiunto in app per gestire questi due bottoni ovviamente lo stato ricorderete è proprio del componente quindi proprio di app quindi qui sotto ci sarà poi la tabella ci sarà poi il nostro form in questo caso non c'è ma potrebbe esserci il nostro form potrebbe esserci altra roba e lo stato è invece dentro app in questo caso a questo punto possiamo creare il contesto allora il contesto lo creiamo come componenti come vi ho detto prima con questo create context quindi facciamo un privacy mode chiamando create context e un edit mode chiamando create context anche in questo caso quindi due contesti che nella nostra intenzione si mapperanno sul comportamento di questi bottoni e questo possiamo farlo sia dentro app quindi scrivendo queste due righe scrivendo queste due righe dentro app oppure in un file separato in questo caso è in un file separato perché lo vedremo non solo dobbiamo importarlo in app ma dobbiamo anche importarlo in exam component perché è lì dentro che c'è la tabella quindi averlo in un file separato ci permette di importarlo due volte in i due file se no dovremmo esportarlo da app quindi così possiamo tranquillamente averlo pseudo indipendente diciamo quindi questa è la definizione poi abbiamo il provider il provider è quello che viene appunto automaticamente creato per ogni nuovo contesto per cui se io consumo come dicevo prima un qualcosa senza aver senza aver esplicitato un provider in maniera esplicita senza aver definito un provider in maniera esplicita eredito il valore di default che in questo caso non c'è che però potrei mettere qui in questo caso però non c'è altrimenti prendo dal componente provider la sua proprietà che si chiama value e che ovviamente sarà disponibile a tutti i consumer i componenti che consumano questa proprietà che sono innestati all'interno del provider e i provider possono essere a qualunque livello possono essere a livello di app possono essere a livello più basso a vostra scelta a base a quello che c'è bisogno e oltretutto i provider possono anche essere innestati perché io posso avere un provider appunto dentro app e un altro provider dello stesso componente o di un altro componente all'interno del provider più grosso e se sono dello stesso contesto se riguardano lo stesso contesto il provider a livello più interno il valore del provider interno più interno fa l'override del per i suoi figli ovviamente del valore del provider più esterno quindi potrei avere un provider P un C.provider e poi qui all'interno avere un altro C.provider e il valore di questo sovrascrive per i figli che sono qui dentro il valore di questo mentre il valore di questo sarà valido a tutti i figli che sono ovviamente fuori dal provider interno quando questo value del provider cambia tutti i suoi consumer che li utilizzano facciamo finta questo e vengono rirenderizzati quindi un po' come se cambiasse lo stato o se cambiasse la proprietà viene fatto il rirendering a livello di virtual DOM e questo è un esempio di provider in cui vedete che a livello di app subito sotto i bottoni quindi incapsulando la tabella che ripeto nel nostro caso aggiornato avrebbe anche il form quindi tutto exam components definiamo due provider uno che è il privacy mode punto provider in cui passiamo privacy che è il valore corrente derivato dal bottone view e l'altro edit mode in cui passiamo editable che è il valore corrente memorizzato nello stato del bottone edit bom e questa è la definizione del provider un componente che racchiude altri componenti in questo caso dato che due provider sono di contesti diversi ovviamente questi valori non vendono sovrascritti ma exam table potrà sia accedere consumare questo sia consumare quello che viene fornito dall'altro provider se vuole quando ne ha bisogno exam table così come eventuali altri nodi eventuali altri componenti che potremmo aggiungere qui sotto in questo caso e in maniera analoga potremmo avere componenti definiti qui che accederebbero solo a privacy mode ma non a edit mode se ci servisse quindi ecco di nuovo la flessibilità dell'avere questi componenti di provider perché ci permettono di applicare provider in punti diversi del codice a questo punto abbiamo definito il contesto abbiamo fornito il contesto a un insieme potenziale di elementi a questo punto dobbiamo consumarlo e come dicevo abbiamo due modi di consumarlo abbiamo il modo tradizionale che fa il paio con provider che è questo consumer che vediamo adesso oppure abbiamo look che non ci fa definire un nuovo componente per farlo quindi context consumer è sempre disponibile nel momento in cui abbiamo creato un componente quindi quando creiamo un componente possiamo sempre usare provider e consumer e come si usa consumer bisogna definire un componente che si chiama contesto punto consumer e poi dobbiamo avere una funzione di callback che riceve il valore dal provider più vicino o dal default provider come dicevo prima se non ci fosse un provider più vicino e questa callback in base al contenuto di valore deve rirenderizzare o renderizzare per la prima volta qualcosa basandosi su questo contenuto quindi questo deve fare il rendering di qualcosa non imposta uno stato non fa un set ma renderizza qualcosa e qui vediamo l'esempio allora noi abbiamo vediamo sull'edit dentro il nostro exam row di prima abbiamo il consumer in cui abbiamo editable che è il value questa callback scritta in questo modo che non sembra una callback ma ricordatevi che è una callback perché è definita così da da questa componente quindi questo editable è in realtà il valore che viene passato dal provider quindi sarà vero o falso nel nostro caso e se è vero se editable è vero qui c'è di nuovo la stessa sintassi che abbiamo usato per aggiungere il bottone e nascondere il form e viceversa se editable è vero aggiungiamo i controlli alla nostra terza calonna della tabella altrimenti se editable è falso semplicemente mettiamo la stringa disabled all'interno dei componenti perché abbiamo cambiato la modalità di lettura quindi se se posso editare visualizzo i controlli per editare e qui dovrei anche cercare di dire o meglio non qui ma dovrei avere una cosa equivalente a questa per i form quindi che faccia apparire il bottone potrebbe avere un altro consumer sul form e altrimenti se non posso editare devo visualizzare disabled nella terza colonna posso visualizzare niente nella terza colonna posso e poi se ho il bottone del form non far apparire il bottone del form perché o renderlo disattivato perché non posso editare niente in quel caso questo è come lo si fa con i componenti che va bene ma appunto ha queste caratteristiche bisogna ridefinire un componente ricordiamoci dobbiamo ridefinire un componente all'interno di qualcosa e all'interno di questo componente definire una callback tipicamente come una funzione arrow che rirenderizzi qualcosa in particolare se non volessimo usare il componente un modo esattamente equivalente ma che appunto ci permette di non usare il componente ma di accedere al valore del contesto in maniera più facile se volete se vogliamo appunto consumare il contesto possiamo non definire un consumer ma dobbiamo ovviamente aver creato il contesto e possiamo usare look look che si scrive in questo modo const una variabile o let una variabile uguale use context number context number context è il nome che abbiamo dato al contesto quando l'abbiamo creato e a quel punto da qui in poi quando abbiamo bisogno di leggere value possiamo ovviamente utilizzarlo come fosse una variabile qualunque come se fosse passata con una props come se fosse uno stato possiamo semplicemente utilizzarlo laddove l'abbiamo bisogno con gli hooks attenzione l'abbiamo visto finora non c'è modo non c'è le prevalenze del provider con gli hook c'è solo un hook per consumare il contesto per consumare il contesto non si può creare un contesto con gli hook non c'è il set value diciamo così l'equivalente che avremmo nel set value dello stato quantomeno non per ora e questo è l'esempio con privacy con l'altro con l'altro contesto così da avere le due versioni se volete e vedete che privacy andiamo nella funzione exam info e semplicemente facciamo una variabile che chiamiamo come vogliamo in questo caso privacy mode e dice use context privacy mode quindi dentro questo privacy questa variabile privacy mode ci sarà il valore passato qui che di nuovo sarà vero o falso e a quel punto usiamo lo stesso meccanismo ma all'interno invece di renderizzare l'intero componente l'intero pezzo del componente andiamo a utilizzare questo meccanismo solo dove ci serve quindi per esempio privacy mode se è definito mettiamo una x se è vero mettiamo una x altrimenti visualizziamo lo score e facciamo la stessa cosa per la data noi adesso abbiamo visto due ovviamente contesti separati uno sulla privacy e uno su l'editable ma si può chiamare use context in due modi diversi uno con consumer e uno con look si può ovviamente anche usare use context per chiamarne più di uno noi nell'esempio ce ne sono tutte due per darvi entrambi gli esempi di come si usano queste cose ma si può anche usare use context con differenti e semplicemente potete andare a utilizzare le due variabili all'interno del codice e quindi in questo caso non c'è bisogno di mettere un componente né un altro componente cosa che invece col consumer bisognerebbe fare quindi questo è un pochino più comodo nel caso in cui abbiate più contesti rispetto al consumer e qui c'è l'equivalente di quello che dovreste fare sia col consumer component che col look vedete che col look è molto più snello è molto più è anche leggibile è anche forse meno aperto ad possibili errori ho dimenticato una parentesi ho dimenticato un error function o mi sono dimenticato un pezzo eccetera perché semplicemente definisco le variabili e le uso ora cosa succede se noi vogliamo da un figlio da un qualcosa che consuma un contesto vogliamo cambiare questo contesto vogliamo cambiare il valore dal figlio vogliamo mettere false invece di true alla nostra proprietà di privacy ecco se vogliamo farlo il provider deve fornire una callback attraverso una callback per fare questo cambiamento non c'è un modo diretto per farlo e questa callback può essere di nuovo una prop e quindi di nuovo andare giù perché comunque il provider è un componente come tutti gli altri quindi può tranquillamente avere le prop può avere il suo stato può avere quello che serve se volesse perché è un componente vero e proprio che però ha queste cose in aggiunta tipo value che viene passato automaticamente a tutti quindi se volessimo avere una callback per fare l'aggiornamento di questo value potremmo avere una prop e a quel punto però bisogna passarla da padre a figlio da padre a figlio finché non ci serve oppure metterla all'interno del valore del contesto che abbiamo detto deve essere un unico oggetto ma può essere anche un oggetto complicato a piacere quindi può essere un oggetto che ha un oggetto composto da delle proprietà testuali o numeriche o booleane come nel nostro caso e anche delle proprietà che sono delle funzioni perché gli oggetti al loro interno lo sappiamo possono avere anche delle funzioni da chiamare di sorta di metodi e queste sono le due opzioni che abbiamo o una props per cui bucchiamo di nuovo tutto e in certo senso facciamo quello per cui facciamo quello per cui abbiamo vogliamo dire facciamo quello che stavamo cercando di evitare usando il contesto oppure appunto col contesto che ci complica il contenuto dell'oggetto contesto ma dall'altra parte ci evita di fare di bucare tutti i componenti con queste props e c'è da ricordarsi che lo status viene definito e viene definito prima del provider è parte del componente che contiene il provider e quindi non è ovviamente modificabile dal provider e quindi non è nell'oggetto di contesto come tutti gli stati due considerazioni generali sul contesto poi proviamo a eseguire quel programma e vediamo se ci torna tutto quello che abbiamo visto nelle slide non mettiamo non come dire cerchiamo di usare troppo il contesto perché viola la portabilità dei componenti in quanto sia un contesto sollegando dei componenti tra di loro o un componente più generale o all'intera applicazione e quindi se voglio riutilizzare il componente da un'altra parte o in un altro modo ho comunque questo link col contesto che me lo porto dietro e vabbè riduce la purità la purezza dei componenti funzionali perché crea questo legame forte con qualcos'altro non usatelo perché siete pigri del tipo mettiamo questo nel contesto perché così ce l'hanno tutti e non ci pensiamo più di nuovo un po' che viola la portabilità ma anche perché passare i parametri esplicitamente ci permette di capire non solo dal punto di vista della documentazione di che cosa fa quello specifico componente perché un componente riceverà certi props e quindi io potrò sapere quelle props cosa sono e anche per verificare che tutto stia funzionando in maniera corretta che sto passando dalle props a tutti i componenti che devo perché basta andare a vedere se nel padre passo la props corsi e nel figlio ricevo la props corsi se ho bisogno di passarla ancora una volta la ripasserò e quindi vedo che se mi manca un pezzo riesco subito a identificare dov'è questo questo pezzo che mi manca e soprattutto non usiamo il contesto quindi il contesto si può usare si può usare in questi casi particolari in cui per esempio la lingua o per esempio il appunto il login le informazioni sul login oppure la modalità il dark mode e il modo invece chiaro quindi queste cose un pochino più generali che sicuramente servono a non dico a tutta l'applicazione però probabilmente al 99% dell'applicazione al 90% dell'applicazione non utilizziamolo per correggere errori di progettazione per cui se a un certo punto non sappiamo dobbiamo mettere un qualcosa non diciamo mettiamo nel contesto ma piuttosto riflettiamo se dobbiamo magari spostare lo stato un livello più in alto o passare una volta di più le proprietà in modo di avere una soluzione non solo più chiara ma anche che ci permetta di mantenere quella portabilità dei componenti che è il motivo poi un pochino principale per cui i componenti esistono essere portabili essere utilizzabili il più possibile prima di considerare il contesto in ogni caso si può considerare queste tre opzioni uno passare un componente come una proprietà è possibile passare un componente come una proprietà quindi passare l'intero componente in una prop e quindi poi rirenderizzare il componente una volta che viene passato e usare questo render props quindi delle callback passate come props che ci permettono poi di essere renderizzate e qui se guardate avete un esempio ben dettagliato di questo oppure usare i children quindi quel props punto children che ci permette di accedere ai figli ai figli dalla proprietà padre che è una proprietà se ricordate dalle slide su GSX se non ricordate provate a dargli e dare un'occhiata che è una proprietà che tutti i componenti hanno la proprietà children la proprietà che tutti i componenti di default hanno ok allora andiamo un'occhiata a questo che è poi quello che abbiamo visto nelle slide ora noi quello che ci aspettiamo è la nostra stessa tabella di prima senza ovviamente il bottone perché questo non ha ancora il form che ha hide e read quindi se io faccio adesso è tutto visibile se io faccio hide nascondo se io faccio read vado in questo mode poi i bottoni forse potrebbero essere chiamati in modo più chiaro ma se schiaccio read ovviamente esco vado in una proprietà read only e quindi non posso fare azioni non posso cancellare niente se vado in una proprietà edit invece posso a quel punto ripremere il bottone di cancella e cancellare il nostro elemento fare la modifica appunto se ci fosse forma avremmo anche il bottone di hide quindi questo vedete è fatto come abbiamo detto qui c'è il bottone ci sono i due bottoni e qui ci sono i due provider che passano lo stato privacy e lo stato editable a exam score che è il nostro exam component in create context abbiamo creato senza un valore di default potevamo anche specificare un valore di default per esempio true o false in questo caso non ci serviva tanto perché abbiamo lo stato di default quindi era forse ridondante avere questo e il valore di default poteva essere utile se noi per esempio ci dimentichiamo di mettere value a quel punto abbiamo legge valori di default e quindi abbiamo comunque un default a vero o falso però è sempre buona norma in provider mettere value a quel punto nell'exam component a parte importare il contesto troviamo poi come abbiamo visto nelle slide dove sono finiti qui l'edit mode punto consumer dove questo edit mode è il contesto che abbiamo creato l'abbiamo chiamato così e notate che tipicamente i contesti e dato che generano dei componenti alla fine perché genera il componente provider e il componente consumer si scrivono con la lettera maiuscola quindi a differenza da altre variabili che sono minuscole e queste si scrive una con la lettera maiuscola e vedete c'è questa callback c'è questa callback quindi editable è il value che abbiamo passato a edit mode quindi sempre questo che si può chiamare anche in altri modi nel consumer non è necessario chiamarlo in maniera identica ovviamente e qui c'è poi se editable e mostro la riga altrimenti se è falso mostro disable e poi c'è la stessa cosa ma invece di usare l'edit mode punto consumer invece di usare il privacy mode punto consumer lo facciamo con look quindi use context privacy mode sempre con la lettera maiuscola perché l'abbiamo definito così esattamente come abbiamo definito e a quel punto qui possiamo definirla con let possiamo definirla con cost è uguale tanto più che in sola lettura in questo caso e andare a dire se privacy mode è true visualizzo x o visualizzo private e altrimenti visualizzo exam score e la data che possiamo metterla nel formato se volete che avevamo prima e ecco appunto se facciamo hide diventa private invece che x e se facciamo read diventa disabled e viceversa e tutto il resto è ovviamente uguale se avessimo ripeto il bottone del form dovremmo andare a richiamare per esempio questo privacy mode anche laddove andiamo a generare il form quindi che dovrebbe essere qui qui sotto table dove generiamo il form avremmo un privacy mode e allora metti disabled il bottone add per esempio quindi un qualcosa di simile a questo ma che si riferisce a tutto quel pezzo sul bottone sul form domande? potevamo fare un controllo unico di privacy mode su exam road data potevamo in realtà potevamo potevamo ma questa riga ci sarebbe stata un pochino di piccio il nome dell'esame allora se avessimo voluto nascondere tutto compreso il nome dell'esame sarebbe stata una buona idea in realtà usare privacy mode a livello di road data ma dato che l'esame lo vogliamo in questo caso lo vogliamo comunque il nome dell'esame lo vogliamo mantenere visibile avremmo dovuto fare un controllo di tutto e questo comunque escluderlo dal controllo oppure potevamo farlo qui che racchiudeva queste due e però invece di andare a scrivere private avremmo dovuto ripetere TD aperto e chiuso tutte le volte e quindi c'è un pochino più di codice diciamo così se volevamo invece nascondere queste due righe due celle per toglierle potevamo anche farlo a un livello più in alto però questa è una variabile e quindi potete usarla dove in questo caso ha più senso fatta così ma si può anche spostare qui ecco se uno volesse scrivere privacy mode privacy mode punto di domanda qualcosa due punti qualcos'altro si poteva fare anche qui dentro si poteva fare a qualunque livello ripeto in questo caso ha più senso fatto qui perché exam name deve rimanere e perché così ci evita di ripetere TD se no dovremmo ripetere sia per private sia per le props TD aperto e chiuso è stessa cosa per la data quindi il contesto è un'altra di quelle cose che avete nella vostra cassetta degli attrezzi di React diciamo da non abusare ma che può essere utile in certi casi quando per esempio uno vuole avere appunto un modo di lettura un modo di scrittura un modo di privacy un modo di non privacy ripeto la lingua sicuramente può essere una cosa che ha senso mettere nel contesto il dark mode può essere una cosa che ha senso mettere nel contesto quindi quando il numero di componenti che sono impattati da questo cambiamento è notevole considerevole per l'intera applicazione non è solo una riga della tabella o una tabella che cambia all'interno di un'applicazione ma quando c'è un numero ragionevole di componenti che appunto la utilizzano altre domande? se no diciamo due parole sul laboratorio il prossimo e sull'organizzazione del laboratorio il prossimo però se non avete domande ditelo o fate un segnetto sui partecipanti con una X o qualcosa un pollice verso ok il pollice dall'altra parte ma lo prendo come come corretto come ho capito diciamo così va beh allora due parole sul laboratorio della prossima volta di lunedì allora per lunedì la nostra intenzione ci sarà il quarto terza parte del del Big Lab 1 che sarà essenzialmente sul che pubblicheremo come solito tra oggi pomeriggio domani e quindi avete tempo di leggerla e sarà su la modifica e l'aggiunta tramite forum di to do list principalmente e poi ovviamente eventuali altre aggiunte di stato laddove servono come abbiamo fatto oggi per riforma abbiamo dovuto aggiungere degli stati da qualche parte per far apparire il bottone per far nascondere il bottone quello che vi servirà secondo le specifiche del Big Lab questo è il terzo di quattro terzo puntata del Big Lab 1 su quattro e il prossimo completerà l'applicazione da parte quindi non quello di questo lunedì ma quello dell'unidì dopo completerà completerà l'applicazione lato React lato front-end col routing che sarà l'argomento che affronteremo nelle tre ore di giovedì prossimo il routing client-side quindi far apparire più pagine nonostante noi lavoriamo alla fine su una pagina quindi far cambiare la URL come se avessimo più pagine ma in realtà noi stiamo gestendo un'unica pagina la nostra intenzione è quantomeno per il momento continuare a meno che voi non abbiate visto dei problemi in un discorso con la stessa modalità con cui abbiamo fatto il laboratorio il lunedì passato quindi primo turno online con tutte le persone afferenti a quel turno e il secondo turno in questa modalità ibrida chiamiamola così in cui chi può venire in aula è benvenuto e chi non può venire in aula può collegarsi online e ci sarà il borsista che soprattutto seguirà quelli online e Luca che invece seguirà soprattutto la parte in presenza ma sarà comunque collegato anche alla parte online se questo se e poi risponde alla domanda in chat questo se il numero di partecipanti in presenza rimane uguale o maggiore a quello della settimana scorsa se il numero di partecipanti in presenza crolla o cala visto che non è che sono milioni erano 12 lunedì quindi se cala sotto i 12 di un po' possiamo anche riconsiderare di tornare tutti online quindi questo dipende un po' dalla partecipazione in presenza se rimane più o meno così o aumenta ovviamente non c'è problema se diminuisce non andremo e lo dico già adesso non andremo in aula per tre persone e poi avere molte più gente online che non si riesce poi a seguire in maniera corretta in maniera dando l'attenzione giusta che bisogna dare quindi finché rimangono lo ripeto dei numeri di questo tipo una decina 12 o di più ovviamente sicuramente continueremo così con online più ibrido chiamiamolo così se ovviamente aumentano i numeri in presenza l'ibrido potrebbe sparire e diventare totalmente in presenza ma la nostra idea è questa quindi volevo sapere da voi una cosa se questa modalità ibrida aveva creato qualche problema o in realtà andato molto bene quindi per chi si è collegato online nel secondo turno e per chi era in presenza nel secondo turno gli altri dovrebbe essere come il solito quindi mentre voi rispondete a questa domanda in questo corso vedremo qualcosa come ReactRoot sì settimana prossima giovedì giovedì prossimo vedremo esattamente ReactRoot e nel laboratorio di fra due lunedì farete un laboratorio con ReactRooter questo per rispondere a Mario è quello che dicevo prima lo faremo multipagina intendendo proprio ReactRooter chi ha fatto il laboratorio ibrido è per caso collegato il ibrido online e vuole dirmi com'è andata se so la prospettiva del borsista e dell'esercitatore non so la vostra e volevo sapere la vostra ok 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 è andato tutto bene sto aspettando che ancora qualcuno scrive basta è andato tutto bene ecco tu hai fatto il laboratorio ibrido adesso stoppo la registrazione e così vediamo un attimo questo pezzettino perché vorrei capirlo meglio quindi voglio approfondire solo questo per ora rimaniamo così lunedì il laboratorio funzionerà esattamente come le dite la settimana scorsa quindi primo turno online il secondo turno ibrido se c'è qualcuno nel secondo turno online che preferisce spostarsi al primo turno dato che l'altra volta erano quattro gruppi se uno di questi quattro di questi quattro vuole spostarsi al primo turno non dovrebbe essere un grosso problema e viceversa d'altra parte chi viene in presenza se continua a venire in presenza va benissimo se decidete di smettere in presenza passeremo a tutti online e come dicevo vi pubblicheremo il test del laboratorio tra oggi pomeriggio e domani di stoppo la registrazione per favore Andrea rimani che vorrei sentire meglio questa parte qui solo un attimo grazie a tutti e arrivederci agli altri o chi non è diciamo chi ha lo stesso dubbio che un problema diciamo così che ha riscontrato Andrea può rimanere anche lui un attimo grazie a tutti